Borse di studio, contributi per l'acquisto dei libri e quant'altro, soprattutto finanziamenti comunali per falsi poveri studenti di scuole e università. Undici le persone denunciate dalla Guardia di Finanza per aver percepito indebitamente questo genere di contributi. Undici giovani tra i comuni di Manduria, Sava, Lizzano e Marugio. Sono stati gli uomini della tenenza di Manduria, coordinati dal tenente Daniele Meschini, a scoprire la truffa attraverso controlli mirati in tema di prestazioni sociali agevolate. Secondo gli accertamenti dei finanzieri, gli undici denunciati hanno dichiarato redditi familiari bassi, miseri, tanto da rientrare tra gli aventi diritto delle borse di studio e dei buoni libri, pur vivendo invece in maniera abbastanza giata, come dimostrato dai beni mobili e mobili, case e auto ad esempio, in uso alle famiglie. Da qui sono scattate le undici denunce per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Proseguono le indagini delle fiamme gialle per quantificare economicamente la truffa e recuperare successivamente le somme intascate. Complessivamente siamo tra i 15 e i 20 mila euro circa, soldi che sarebbero dovuti finire invece nelle tasche di chi ne aveva davvero bisogno.